E' andata in scena ieri sera a Villa di Donato a Napoli la seconda edizione di Latitudine 3440 che vede la partecipazione dell'Istituto Culturale Italiano Art 1307 con sede a Napoli assieme all'associazione americana LA Art Corps di Los Angeles patrocinato dal Consolato Generale degli Stati Uniti d'America. All'interno della villa ieri sera sono stati presentati i lavori di tre artisti americani ed uno giapponese impegnati in un fitto programma di dieci giorni che si articolerà tra letture, incontri, laboratori anche con artisti locali e per un profondo scambio di esperienze, idee e progetti sull'arte. Tra gli artisti presenti c'era anche Ecio Lev che ha tenuto col fiato sospeso tutti i presenti con uno spettacolo al buio realizzato interamente con dei led. A parlarci di Latitude 3440 è stata la curatrice della mostra Cinzia Penna che abbiamo ascoltato ai nostri microfoni. Art 1307, la nostra associazione e LA Art Corps sono già alla seconda edizione dello scambio. La prima fu fatta nel 2010 in cui sette artisti italiani andarono a Los Angeles e cinque vennero qui ospiti a Napoli. Questa volta abbiamo scelto quattro artisti italiani e quattro artisti americani. La prima sezione è quella degli americani ospitati da Art 1307 nelle sale di Villa di Donato e la seconda parte sarà svolta a settembre, con inizio il 3 settembre, a Los Angeles presso Union Center of the Art dell'Irland Art Corps. Presente all'inaugurazione anche il console Columbia Barrusse. Un scambio che continua a fare crescere i ponti tra i nostri due paesi, perché l'arte non è solo questa espressione personale, ma è anche una rappresentazione delle nostre culture. In questo caso abbiamo tre artisti americani che abbiamo il privilegio di vedere qui, incluso due che sono di famiglie di migranti agli Stati Uniti che mostrano la varietà e la ricchezza che c'è nell'arte e nella cultura degli Stati Uniti. Grazie a tutti.